Navigava sulle spalle. Abido, nell'Alto Egitto, tra Asiut e Tebbe, era una città famosa per i grandi templi di Seti I e di Ramses II. Abido evoca le numerose tombe del dio Osiride, che navigava sulle spalle dei sacerdoti ed era la meta di una gran folla di mortali e di morti. Perché? Commento. Perché in quel tempo l'onda incarnativa, che noi conosciamo come civiltà egizia, già intuiva l'oltre, mentre l'attuale e nuova onda incarnativa egiziana fatica ad intuirlo.